Il ministro della difesa Guido Crosetto lunedì 9 gennaio 2023 ha voluto congratularsi personalmente con i due carabinieri, marito e moglie, che liberi dal servizio hanno fermato il responsabile dell'aggressione a una turista israeliana avvenuta nei giorni scorsi alla stazione Termini a Roma. L'incontro è avvenuto al termine della presentazione della fiction sul generale dalla chiesa proprio a Roma. Rivolgendosi al vice brigadiere Filippo Consoli e all'appuntato Nicoletta Piccoli il ministro ha sottolineato come professionalità, dedizione e coraggio delle donne e degli uomini dell'arma siano centrali per la sicurezza dei cittadini. Il vostro gesto ha detto è il segno tangibile di uno stato presente e sempre al fianco degli italiani e raccoglie la preziosa eredità del generale dalla chiesa.